la tradizione è stata rinnovata con la benedizione delle bottiglie quest'anno ben 700 bottiglie di olio benefico di santimerio che sono state benedette da don mario papa sul sagrato della chiesetta di santimerio si tratta dell'olio dedicato al santo che ha un fine benefico la vendita infatti aiuterà quest'anno una comunità di recupero di cassano maniago poi è partita la processione dalla chiesetta alla patronale di san michele arcangelo dove è stato bruciato il pallone simbolo del martirio del santo e dove è stata celebrata la messa solenne nel pomeriggio sono stati premiati i bambini che hanno vinto il concorso disegnando il loro parco degli olivi di via monte bernasco